... ... che stiamo facendo un singolo che poi va presenterato la camera come vengono eletti Bari Università con il voto Anche Anthony ha diritto al bullo Bari 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 Allora, le lezioni non sono di due tipo, le lezioni non sono di due tipo, le lezioni non sono, non sono di due tipo, le lezioni non sono, non sono di due tipo, chiostè? Mi sembra che vorrei urla ... Ahè, come va? Allora, metti una nota così la fiamma di questa domanda, No, è general direction. Andate sotto così quanto viene fatta l'elezione integrale. No, ma no, è necessario. Facciamo, come reggisci. Odicino le altre. Shhh. E fai le tira. Comento in spazio. E poi c'è la bind direction. Dove? Dove? No. Qui c'è quando si libera la bind direction. Quando c'è, si libera un posto. All'interno della pavola. Ma prende questa pavola. Ma prende questa pavola. Ma prende questa pavola. La prende questa pavola. Bene. Quindi, bind direction. Questa pavola. Questa pavola. Comincia Alessandra a fare gli occhiali. Per gli occhiali. E' il risultato del Presidente. Per l'inizio del momento. Chiara? Qualche attività.